Dopo tre decenni di attesa, sulla Galleria della Guinza si apre quella breccia operativa volta ad unire la Fano Grosseto, interrotte in un perdurante immobilismo. Questa mattina infatti a Mercatello sul Metauro i tre presidenti di Regione Marche, Umbria e Toscana si sono ritrovati all'intersezione dei loro confini per consegnare il cantiere di Anas che consentirà di tornare a percorrere la suddetta Galleria. Il GD, il Galleria dei, oggi è la dimostrazione della concretezza, del pragmatismo con cui le tre regioni, Toscana, Marche e Umbria, hanno voluto dare avvio finalmente ai lavori per completare un'incompiuta, quella che collega non solo Fano con Grosseto ma le nostre due capitali del risnascimento, Urbino con Firenze, ma soprattutto i porti di Ancona con quello di Livorno. Questo significa che puntiamo molto allo sviluppo economico, allo sviluppo economico non solo della nostra regione ma del sistema Centro Italia, del sistema Italia. Anas ha appaltato il cantiere al Consorzio Stabile Europeo che dà inizio ad un lavoro da 150 milioni di euro con finanziamento supportato dal governo Meloni. 925 giorni di lavoro per rendere attivo il transito in Galleria presumibilmente nel 2027. Almeno un transito relegato alla sua prima monodirezione Marche e Umbria fra Mercatello e San Giustino. Dopodiché si lavorerà per pensare a finanziamenti che completino la funzionalità dell'opera. Andiamo per gradi, innanzitutto continuiamo a lavorare e a completare quest'opera che era nevralgica. L'opera era il pezzo, rappresentava il pezzo dell'ostacolo più grande perché in pochi chilometri occorrevano veramente tanti milioni di euro. Poi sicuramente si proseguirà per il completamento della Fano Grosseto che come le dicevo è un'arteria fondamentale per il centro d'Italia, per l'Appennino, per il mare Adriatico e per il mare terreno e soprattutto un'arteria che congiunge tante realtà e apre mondi diversi e li mette in stretta connessione. I collegamenti fra il Tirreno e l'Adriatico, i collegamenti fra est e ovest non sono pari a quello che invece sono le infrastrutture che vanno da nord a sud. E questo penalizza proprio le regioni del centro che sono regioni vitali, che sono regioni meno assistite di altre ma che invece hanno un sistema economico e sociale fra Toscana, Umbria, Marche, molto omogeneo e che quindi deve essere collegato. Il messaggio di questa apertura della guinza è il messaggio di un'Italia che dal Tirreno all'Adriatico vuol vedere collegamenti e infrastrutture all'altezza della modernità. Con i colleghi stiamo portando avanti un percorso sicuramente importante le infrastrutture significano collegamenti più veloci, significa sviluppo economico, significa insomma tante cose. Questa è una trasversale che metterà in collegamento Tirreno-Adriatico e quindi sicuramente per la nostra regione è un altro tassello importante in questa direzione. Oggi facciamo saltare uno dei tappi con cui negli ultimi 30 anni il Partito Democratico ha tenuto chiuso ermeticamente la nostra regione Marche così come è stato anche certificato dalla Unione Europea che ha purtroppo indicato la nostra regione nel 2019 come regione in transizione ossia come regione fra le meno sviluppate d'Italia. Il lavoro è iniziato, il lavoro è iniziato per sollevare le Marche e da questo gap infrastrutturale a cui eravamo stati condannati abbiamo intrapreso questa strada che vogliamo portare avanti.